Amadeus, un wizard Poi c'era Pony, il knight, il protettore più freddo del realm Zoya, un thief Siamo a salvare il kingdom Sono Grievous 28 e sono qui con Delta, Ignoto e Rex Salve ragazzi, qui dal 38 sono con Ignoto e con Grievous Avete sentito Grievous purtroppo Andiamo avanti con il DLC ragazzi Amanti Savoia Esatto, intanto stiamo parlando di cose molto belle I miei MS sono più bassi dei tuoi MS Eh sì, cose molto belle perché da me, Ivrea e a Venezia e da Grievous è iniziato il carnevale Infatti sarà molto divertente Che bello che questo video uscirà molto più avanti Il carnevale Ma giusto, è vero Allora quando vedete questo video saprete che a febbraio E' iniziato, c'è stato il carnevale a Venezia e a Ivrea E per maggior ragione dovete in anno prossimo a febbraio venite a vederlo perché merita Perché è unico nel suo genere Sì, sponsorizziamo le cose belle italiane Perché noi stavamo parlando della questione del, come posso dire, non dico beniculto, anche dell'usanza italiana Sì, partì, partì Sì, partì, partì Intanto leggiamo, leggiamo Dopo l'attacco dei Goblin al regno, gli eroi del Trine erano stati trasportati in un inquietante deserto Il cammino degli eroi attraverso le dune roventi Che aveva fatti cadere dalla padella Al nella braccia E poi nelle profondità di un intestino Oddio, è vero che schifo Minca, io ho appena mangiato adesso Allora, eccoci qua Intanto che siamo arrivati Allora, stavamo parlando di cose Stiamo parlando Non ti ricorda il livello del Sarlacc, del potere della forza? Beh, più che del potere della forza Del ricordo di Boba Fett Ah, sì, anche sì, sì Morto male Aspetta Sì Non era così Devi prenderle tutte e planare Forse con la planata lei riesce a prendere tutte, sai? Metti della più che altro dove arriva Vai Grievous, plana No, ti aiuto Che cazzo Ma che sono ste palle qui sopra Scusa Scusa Scusa, una trave in testa Ah, qui c'è, aspetta Sembra quello il famoso testicolo si distruggeva Sì, sì Revivimi Revivimi Oh, ma revivimi Ho fatto una brutta fine qualcosa Allora Ah, oddio Bolle Ah Ah, hai capito, devi distruggere per far uscire la forza Devevo distruggere lì, sì Appena il signor Grievous è pronto No, volevo prendere quella Mi fai una bolla lì sopra che devo prendere quella balla Sì Che sono due lì sopra No, no, lì Dall'altra parte Ah Dall'altra parte No, cazzo Allora Dove la vuoi la bolla? È proprio sopra, aspetta Ma in realtà Eh, non levamela da qua Che mi dà solo fastidio Ah, è bravo Delta Mettimi Mettimi Eh, mettimi la piattaforma E siamo a posto Non riesco a farla Aspetta No Allora, aspetta Allora, ho capito dove devi andare Riva di sopra No, ho capito che devi fare Ecco Metterla là, esatto Metterla là il coso Ok Sì, sai perché Metto, scusa Mi è caduto Oh Su, dammela più su Eh, lo so Sto salendo Sì, aspetta No Rimettimela Rimettimela lì Sì, ma Dove la porti? Dove la porti? Dai, che quando vai Faccio saltare il testicolo Così Mettimela su Guardate, ragazzi Che noi non vediamo Però lui vede Sì Oh, guarda che non me la fa prendere No, no Ok, distruggelo Vabbè, ma se puoi saltare lì Allora a posto Aspetta È morto Allora io ve le faccio stare Aspetta Allora aspetta È pronti? Sì Andate Uno Ah, io posso far Distruggela Devi distruggela No, ho sbagliato Ignatore Vivimi Aspetta Eh Pronto? Salta Vai Aspetta Vai Ok No, non l'ha preso Non l'ha preso Non l'ha preso Bella Bella Anche così No Merda Che cos'è quella Vedere che la troviamo Aspetta, fermo La tro... Che disgustoso che è Ma se lo mettessi qui Eh, non lo vuoi Non lo vuoi Non lo vuole Oh, avessi fatto questo Delta per il gioco Quello che dovevo fare All'esame Cazzo che comodo Mi avrebbe fatto giocare A questo livello Sì, è vero Tu lo vuoi Aspetta, aspetta Fai così Abbassa il ver... Il vermone Tutto giù Sì, ho capito Che vuoi fa Il feromone Non puoi abbassarlo di più No Perché è vivo Quello è il problema Non ce l'arrivo Eh, ci vuole No, no, ma io sono stupido Aspetta Togliti, toliti Vabbè Ah, merda L'uovo No, ma non doveva cadere L'ovulo Si è caduto Allora Vediamo un po' cosa c'è da fare No, risalta Risalta Cavolo Eh, vabbè Aspetta Salta bene Aspetta, eh Aspetta E che cavo Ok Fa un po' atmosfera Ti ricordi quando Finisci Cosa Aspetta Si, così fa Mi fanno inghiottire Sì, è vero Quindi trovano i vermi Ma dai E c'è quel cavolo di uovo No, ma Ma l'uovo Può andare a fare un culo Per favore Eh, no Perché ne crea un altro La macchina No, so se esplode Ah Vai, vai, vai Fagli un cubetto E fallo salire Delta Non ci saltai sopra Ok Se devo andare di là però Sì, e ci vuole Ci vuole il coso Ci vuole un Ma è una lingua Ma è una lingua Quella su cui stai appoggiando Non lo so Non lo so E come pensi di arrivarci Aspetta Fagli un cubetto Sì, sì Allora prima Aspetta Guardi che davanti a te Si puoi saltare Quindi Bravo Piano Vedi? Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Dobbiamo fare Bravo Ah eccolo qui Ecco cosa serve l'uovo Allora Il barbero trucco Eh no Mi serve una cassa Qua sopra Stavano un po' Effettivamente Una narrazione Un po' Barbaresca Barbaresca Vado? Sì I nostri cavalieri Stavano procedendo Nell'intestino Guarda che c'erano le punte qua Sì Era di un nerve Schifoso No così Non ce l'ho Hai bancato Eh no Ci ho provato Ma Non vanno a cadere precipitosamente Che cosa per a fare? Dovevano evitare Di finire negli acidi Dolphorici La donna Allora Ritorna lì C'ero io Se c'ero io a st'ora Allora Tu Evita di andare là Aspetta Fatto Presa Presa Ah ok Dobbiamo avanzare adesso Ma sopra o sotto 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 Per forza Revivimi Revivimi Il problema è capire come So io come Ah debbiamo saltare qui Sotto Ah giusto vai Revivimi Revivimi Aspetta No butto una cassa da sull'altro però Ho l'uovo Ho l'uovo Eh anche così Ok vedi dove sta questo cosa Forse lo stai saltati Faccio un uovo qua Eh no ma non tutti sono uova Da prendere Vedi che si fa adesso Vedi che sto coso devi Ah Ok Ah Ah E' disgusto Dove rega Ho presa No lo schifo Ressi a girare il vomito Da un'altra parte E' che sta emettendo Liquami E' delta Teorizza Ah ci ho provato Ci ho provato Come faccio che quello affare lì Mi uccide quel cazzo di vomito Eh ti servirebbe la magia Che non hai No devi passarci De per forza in quel modo Visto Non era difficile Ma io guarda Col potere Del E che mi hai fatto morire Col potere Madonna il potere di Grace Di Di Grace Lo sei arrivato a fare danni Cazzo Verme mi senti Ah ma sto parlando col verme Con le graboide Così col sarlac Ah ho dimenticato una cosa E' stile streaming ragazzi Mi sono scordato di togliere l'opera No che bella sta parte qua Aspetta Fammi vedere Oddio ma che Oh che cos'è Non so dove andare però Sotto Dai che mi è contentato Signore Boing Allora Aiuto Boing 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 siiii la bolla del potere, krimus la bolla del potere e viva la figa, eeeh volevo dire viva la viva qualcosa viva la moda di sopra ma com'è che credi che dobbiamo sal... fai una bolla lì già fatta no puoi distruggere, non torna indietro krimus krimus dovevi abbatterlo si scivola perchè sei sceso brutalmente da un lato krimus devi abbatterli devi tirare di qua la palla eeeh buonanotte e come non lo so prova inventa così ho distrutto io il muro vai allora vedi vedi che non era così difficile ma raga distruggere il muro e per adesso dove andiamo no no era per prendere quei cosi aiuto nooo aiuto si scivola si scivola anche appena di qua eeeh prendi tutto no cavolo sono indietro non riusciamo a raggiungerci dentro che scivoliamo ok ma perchè non riesco boba fett levati ma serio starlacche boba fett come fare un livello di boba fett sul starlacche ah ecco non possiamo aspettarci perchè non si può stare fermi nel senso che è tutto scivoloso schifoso senza che crea balaustre ma se io metto questo ma andrà avanti per di qua è comunque se ti bloccavano che brutto po- tentacoli tentacoli tentai nooo i tentacoli nooo ti ha preso nooo veramente nooo stavo scherzando stavo scherzando ma io stavo scherzando ma io stavo scherzando non credevo che mangiassero la gente no quello è un occhio il megaboss lo deve fare da solo devi distruggere quel testicolo gigante dai se dove tengono majinbu no si rigenerà è una leva quella non voglio sapere cosa ho toccato è un occhio non è un occhio allontanati subito che cosa sono? oddio vabbè è una Swamp Thing praticamente si però posso dire una cosa eh io stavo scherzando sui tentacoli ma non mi aspettavo che era vero ma io in realtà per quanto è stronzo sto gioco è possibile nooo sei morto non partiva la carica avevi finita a stannare ma c'è ancora la tua trave di prima i cubetti di prima eh adesso vediamo di evitare le entaglie ragazzi forse ah si se non sono becca zoia eh infatti hanno preso subito me ma infatti ti hanno preso subito dai di torto ciao ciao ah eri tu aspetta ma l'hai visto? guarda guarda guardami guardami si stai ballando ho un'idea per fermare i tentacoli comunque rallentali no usare il clone mio perchè se gli attacchi si chiudono eh ma dai di nuovo m'ha preso ahahahahah ma che palle aspetta aspetta raga aspetta che tentacoli mangialo si mangialo eh però però aspetta però tutti i bonus che dovremmo avere accetta il sacrificio ha preso l'ha mangiato corri 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 ma quelle tre lì in mezzo come si prendono eh credo bloccandoli mettilo aspetta no aspetta mettilo sotto il testicolo Grievous distruggi il testicolo di acido così lo scioglie no delta levati da lì però siamo stronzi però e Vilginus ahia ci dò ah tocca di nuovo a Pontius vai vai avanzati prego avanzati prego no devi avanzare la fai devi avanzare abbiamo fatto fuori quelli cioè hai fatto fuori abbiamo fatto è però pure tu eh madonna che cosa ho visto quella cosa brutta ah si deve scendere giù si devi scendere si va ho paura eh 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 oddio che cos'è quella cosa lì a terra oh oh è un ciclofe è un ciclofico ora non più ora non più lo sto bloccando vorrei sapere vorrei sapere in che zona del verme siamo perché Grievous si va a suicidio no ho preso delle robe ah sono luci sti così qua oddio mi ha fatto ricordare sapere che mi ha fatto ricordare sapere che cosa Atlantis no fammi fammi mettimi una cosa fammi un cubetto che vado a prendere lì Atlantis no questi affari dovrebbero accendere accendersi quando sono vicini vedi 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 che si accendono ok ok devi farli stare vicini ok no 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 facciamo è possibile aspetta che non abbiamo potere come mai no più che non abbiamo potere abbiamo problemi di vista ho cercato il salto si ma guarda com'è tonta lo sto coso madonna aspetta ho un'idea adesso ce la facciamo ora eh ma fammi un cubetto che piglia i cosi aspetta sposta la palla qui in avanti delta perchè sennò qua non non abbiamo luce ma che fai cosa fai posta questo testicolo qua aspetta no grimo in avanti ecco perfetto ho fatto io va bene ma grimo sei morto eh sì che sono morto ma hai fatto a morire non ha saltato bene ha planato non ha saltato ah vedi che ne manca uno lì sopra ne manca uno qui eh sì è quello che sto dicendo da sé no devi saltare normale non planare non ce la faccio mi devi fare una piattaforma allora spostati da lì spostati proprio rimani la tirava più su? eh no era per non farti precipitare no no ma tirava più ah ok ah ok allora ora hai capito? no! pazzo! si si bravo bravo vai fai cadere cioè schiaccia bravo ok a posto andiamo grimoos pazzo no è giusto è giusto bravi ah di nuovo il tentacolo basta ahahahah c'è il tentacolo la occhio eh raga ma no ma è spesso un quintale ahahahahah ho neanche un tentacolo ho appena detto c'è il tentacolo ecco non aveva appena sbaccuto quel martello e devi fare cadere la palla ho evidente qui e vici che meglio ah vedi che lo tenti col muoho eh si però per far veloce adesso vai fallo cadere veloce E in realtà lui non ha tanta fame Ecco c'è l'autentico il codo Ah il cubetto! Mi piace che fa pure la genialata e poi muore C'è la mega idea Cosa avete fatto qua ragazzi? La mega idea! Questa è la delta grande, questo è Minecraft a livelli estremi Allora, sto idiota Allora, qualcuno che deve risaltare lì No, attenzione Aspetta Buongiorno Aspetta, fermi tutti Fate cadere l'uovo No Avevo detto No, non ho manco salvato Allora, fai il capo Ho provato a salvarlo No, no, tu non devi sparare Ignoto, ignoto, ignoto Che si riprende subito No, l'unica è dagli l'uovo No, non è capito Ascoltatemi Ascoltere Ignoto Tu non sparare a lui Spara all'uovo Spara all'uovo All'uovo, ok Parti No, perché hai saltato da solo? Aspetta, no Eh, volevo più sprint Fai Ah, è bello Eh, aspetta No, ormai l'ho fatto Salta subito Corri Madonna Che culo È capito subito Vabbè, andata Sono morto Andata, torna indietro Sono morto No, ma che schifo Guardi, sono anche i vermi Che escono fuori Ma qualcuno mi aiuti Grazie Questo coso dovrebbe venire giù Ma non viene Ma serve solo per me Ah, ok Quindi qua si può passare Sì Eh, invece non è così Da prendere qua su però Delta, fammi un qualcosa Fammi salire su Fammi un cubetto Eh, sì Però dovevi si tenerlo sollevato Magari No No, che fai? C'è da addosso Salta, usa la polla Dovresti farcela No, no, non ce la faccio Dai, fammi un altro cubo Guardate perché lo si lievita anche l'acido Vedi? Fammi un cubetto Aspetta che mo' sta arrivando Fammi un cubetto Un cubetto Ma perché non sali sul cubetto? Cri No, perché lui plana Non deve planare ogni volta che salta Se no non c'è equilibrio No, cosa stai? È perché plana Non deve planare Ma certe volte plana saltando più in alto E quando c'è la bolla fa più in alto perché non c'è gravità No, no, lui può saltare anche normale Perché lui tiene sempre lo scudo pronto a parare Guarda Salti normale, vedi? No, ma mi devi fare il cubo Ok Eh, aspetta Passa anche tu adesso, ignoto Passa, passa Devo togliere la bolla però, aspetta No, 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 ce la faccio Eh, ma mi devi fare il cubo? Eh, vabbè Allora, fai fare No, no Fai fare il cubo a lui Eh, io Aspetta che forse ho fatto il colpo di genio Ho bloccato l'acido Sì che culo bloccato l'acido sono un mostro cazzo no no sono basso che bello siete inutili posso dire che fare così non è più comodo ehi ehi grigio ignoto grazie pensate troppo ma rimollalo lascialo lascialo perchè no lascialo dovrebbe tornare su oh no perchè siete in due emm non doveva andare così cosa cosa è successo non lo so però sei morto perchè c'è quanto ha puntato via ah perchè hai colpito quello capito ah il testicolo si il testicolo ah ha fatto gonfiare la bolla quindi lì ecco cos'è stato quel uovo lì oh madonna sali grigio bravo vai vedi che sta sempre sulla difesa cosa che non dovrebbe fare visto che sta sempre con lo scudo pronto e carico ma te ti ho prendo la ah e alla fine niente oh vai delta rivivici eh rivivivi e se c'è il boss se ne affrontano da solo è solo un mostro che doia doia è il fantasma della forza chi gli dice ah se allora quei sensi quei cosi lì fanno attivare la la il coso allora se tocca i sensori fa schiacciare la presa vedi guarda quali sono i sensori no lo so lo so eh aspetta ma voglio capire che me fare ah serve zoia guarda eh guardo un po' te no ma delta ce la può fare salta no come fa a farcela gliele distrugge no 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 delta ha capito il moto il metodo no 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 troppo 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 dai salici su adesso non ce la faccio vuoi aggiustarlo si con delta vuoi aggiustarlo si con delta non è che bene perché continui a farne di più cosa pensi cosa pensi che cosa cosa cambierà in tutto ciò il peso perché hanno delle ruote che girano adesso si le tue piattaforme sculdo no guarda perché cosa sto facendo perché sono steampunk come il cubetto vedi che hanno ingranati ma anche nella intro ho messo degli ingranati vai delta vai vai delta e ritorna indietro fai il ponte cazzo cosa è che continui a costruire lego si si vedi cosa serve a giocare a trim fai un'altra adesso no magnetizza le delta fai il ponte magnetico no no è perché cazzo fai uno e mezzo e gli attacchi e no cade no perché gli fai la cassa dietro non riesci e no aspetta non vedi che sto giocare di te nello in equilibrio se non lo metto fai una cassa dietro da contrappeso e adesso vai no è vero no è un disastro e no non è facile vedi e no lo so non puoi passarlo direttamente basta no ma io direi ma fai un cubetto e saltalo sopra no come posso ma sei impazzito madonna ma piuttosto eri vivici no e come fa tanto lì saremo no in realtà io posso passare e io posso planare così non tocco niente e adesso aspetta che si apra ehi tu te bussi beccati questa trave qua stai dicendo sto pensando perché non si apre sii ho capito perché aspetta ho un'idea sono magico io ah ma questi ancora ne sono tre questo uno toglilo sii ho capito ok e va potrebbe essere comodo no aspetta tu togli tu togli si auto tu mi servi ingegneria idile con delta scusa ma se metti tipo i cubetti no non ha senso faccia la piscina devi togliere quella sopra forse sappiamo che sarebbe successo aspetta ma regge la trave se la magnetizzi regge si adesso quindi puoi mettere un cubo lo sapevo lo sapevo perché pesi troppo mi serviva il scusa quindi se magnetizzi magnetizzare la trave non la spacca vedi adesso basta che la metti dritto vedi vedi si prova buono così vai si lo sa aspetta vai delta vai si supera amadeus grande amadeus adesso chissà dove va a finire apprendi dall'altra non l'ho vista ringraziatevi oddio guarda dove ci hai fatto rimascere sul tentacolo no vabbè il tentacolo è lontano è lontano ma è il traumi ormai il traumi è un biolo oh oh che sta roba è su schifo uno l'hai colpito colpisce anche sai che non vuoi sapere cosa fa no non lo sapete nel senso ok ah ecco cosa fa ti ha ammazzato eh mi è uscito di colpo poi vuoi stai dondolando il tuo cadavere ma che schifo ma questi tentacoli quali possiamo prendere no non credo proprio no sono loro che prendono te cavolo una volta ma sti cubi li messi proprio nel posto cadono eh sì perché si muove la lingua lì la cos'è sta roba aspetta aspetta un disastro bravo bravo non so l'eroe della patria dove è delta arriverà quando arriverà questo dovrebbe aiutarti no vabbè moro delta l'uovo aspetta l'uovo dovresti riuscire a spostarlo dovrebbe aiutarti è morto è il preferito ok lunga luta delta ah guarda che ho fatto un altro lavoro non mi piace quel testi mostri mostri ragazze che lo vuole un mostro in forno ma fermo stai fermo lì teno sotto l'acido oddio è stato colpito ecco vedete che succede quando si scherza troppo col fuoco ancora sono vivi muori per il saltello zio guarda lì quanta roba c'è non mi è una cassa delta più casse e metti le tipo qua dove sei tu ah c'è il testicolo maledetto eh ma cosa fai non lo so c'è 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 troppo peso sulla sulla poppa delta mi serve un perché questa cosa si muove nooo sono morti sono morti sono morti sono morti ok forza secondo giro mamma mia non stiamo facendo schifo di più eh vabbè ma vai è difficile qua eh eh sì ma qua è DLC questa non è una una banda di stupidi orchi ah sono passato però non dovevo passare qui devo fare tutto il giro ma delta usa i trucchi non vale tienila giù vorrei tenere giù sto cavolo di fungo è lui che va da solo non io ah vada solo adesso i funghi vanno da e niente è lui che tiene me in realtà guarda che non è facile oh andata non è facile eh eh no ti piacerebbe andata si mi fai un cubetto no devi rifare tutto sali la soppa mi hai avuto un'idea adesso sali no sali piano piano perché dopo deve prendere quei cosi là eh non l'hai capito eh però dopo se tu salti all'improvviso mi si fa non l'hai ostacolato ora mettiti qua per favore maledetta ecco e mo aspetta prima di saltare Gesù Cristo mo festebbio eh cosa ho terremoto no niente perché se tu vedi perché tu pensi troppo tu devi aspettare devi mettere devi stare un equilibrio è suicidato ecco vabbè ho capito me ne vado ho capito vado io ci pensa Amadeus ora si sembra il magotelo e fa ah ma ci sono adesso fa ah ma non ne posso sciopere da prendere no ma io me ne vado è tutto collegato cioè se ne muovi uno si muove l'altro ma cos'è mamadeus se ne muovi uno si muove l'altro mamadeus no no eh sì io sono totalmente scordinato no no è talmente squilibrato sto cosa ho fatto la corsa nel vuoto no è la fine non so saltare è finita non so saltare a livello peggiore pieno di bocche schifose robe varie ma moriamo qua sostanzi e così trapassa il tubetto di dentro oh se non posso tornare indietro cazzo aspetta è che quel mago ci serve Grievous quel mago non che a delta c'è aiuto perché abbiamo bisogno di lui no no quello ci serve oh non tanto ci tradisci già di tu non è vero sì ho pure preso un coso che fai aspetta eh buonanotte e con ciò vado ma ti potete tirarti anche di un martello no da te te ne hai un equilibrio ah io ho preso piano zia ci prova se non ci tiri in testa i cubetti sì ok avanziamo via us è proprio perché non si muove sta pedana c'è qualcosa che non va perché non si muove perché siamo siamo in tre mi serve massimo c'è uno che pesa qualcuno indovina chi infatti guarda come si sposta quando no oddio aspetta aspetta che ti aiuto fermati bravissimo dimmi che hai preso il globo ahahah sì aspetta ci sono altri ci sono altri lì no è arrivato al globo cazzo ma arrivi là prima prima arriva là vedi perché chi cus pensa se puoi andare là aspetta facciamo così rianima adesso chi mi fa passare eh beh rianimo faccio rianimarti non può gribus sì gribus può perché gribus dall'altra parte tiene il coso niente gribus rianimaci ecco vedi non era difficile ok poi succhi gastrici ah ragazzi nuovo da fare il gioco delle bolle col che cos'è quel coso un cuore il polmone c'è un forziere da sopra vai lanciami aspetta allora aspetta aspetta faccio le cose per bene ah cavolo volevo prenderlo nel tempismo ahahah va bene ho sbagliato scusami ragazzi ma qua c'è il tesoro sacro di Amon Ra Amon Ra da quanta roba qualcuno vuole saltare vuole farmi far saltare non così oddio ma sto coso oddio ma io sono un mago ahahah io sono il mago aspetta guarda che ti ricade l'uovo eh quando ricade l'uovo non planare ma mi due tre cubetti te intanto no e voglio rai mettere però cade l'uovo adesso quindi eh però non dei ecco guarda che la bolla ti fa rallentare ok no perché volevo sfruttarla ecco io ah ok qua c'è una trappola schifosa madonna grande delta mamma mia questa bella eh ci ero riuscito però cavolo ma vabbè dai tranquillo ti salta rivivi il mignoto eh aspetta mi faceva morire che qualcosa era esplosiva e faceva tanto eh lì sopra lì sopra mamma dello no ce n'è un altro no ce n'è un altro ancora si più uno di quelli grossi no andava bene prima eh aspetta cazzo è vero tu ti puoi magnetizzare testa di cazzo ma in che senso magnetizzare ti devi magnetizzare vediamo se no non riesco a salire a farti salire cazzo cascio sarebbe stato figo no niente oddio ma ci sono le bolle 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 no in due non sale ragazzi la bolla eh indovina chi è stato chi è stata rimaniamo broccate a vita qui ragazzi eh ci rendiamo eh dobbiamo mettere la bolla lì vabbè ahahahah scusa mi dicono che i maghi sono utili nel party tecnicamente sì ecco perché mi faccio solo pg guerriere ma io ho sempre odiato i maghi delta perché mi ignori ho bisogno di te cioè son morto grazie delta scusa venghi otto tutti che avevi giotto ti ho ignorato ti ho ignorato ti ho ignotato eh ma da qua dove andiamo perché l'altra parte c'è un muo inizia a farmi arrivare lì per favore grazie vieni delta aspetta no ci serve la tua pedana qua che cazzo volete arrivare lì per favore grievous c'è arrivato eh per forza ha sfruttato il mio slancio ti ha preso per la spalla e ha detto no perché si distrugge sto coso adesso guarda ignoto se noi andiamo dall'altra parte eh cosa c'è tentacolo sì però guarda io gli do una botta qua lui guarda vedi dovrebbe fermo fermo dovrebbe rimbalzare ma non ci conviene andare no 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 devi lanciarlo contro lì bravo e adesso si va non si può andare aspetta aspetta vediamo se non c'è niente sotto eh no moro ok no c'è qualcosa che ci sfuga ah forse dobbiamo distruggere sta cosa qual è cosa il cosa che vedi che è appiccicoso e noi non vediamo sciotto ci sta una sottospecie di cosa appiccicoso come lo dobbiamo rompere ah ok ok non lanciare l'uovo non lanciare l'uovo eh ciao ciao zoia allora aspetta no 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 allora cosa che devi rompere non vedo non lo vedi lì quel coso lì eccolo bello si ah ma era il boss eh vedi ma il cuore era il cuore era il cuore quello lì perchè ribolle tutto cosa abbiamo fatto ribollire noi qua moriamo i nostri personaggi qua muoiono no no ci ha scurto fuori ci ha vomitato ci caga vorrei che ci vomitasse fuori si vomita ci vomita ci vomita ah guarda liberi non dice come liberi Amadeus? 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 Leggete! Goblin sciamano? Ma che è sto qua? Oh, eccolo qui! Ha una pagina, e lì giù è nebulioluce poi arrivo io e dico interessante però perché i goblin hanno un ruolo oh che stupido sei proprio stupido posso dire una cosa no fermi la posa più che altra posa ok dove mi sono appeso io lì sopra ho preso già la roba allora ragazzi qui io stacco noi stacchiamo al prossimo video qui dal 38 passo e chiudo bella raga